2 febbraio 1709. Il capitano Woods Rogers ritrova dopo 5 anni di ricerche il navigatore scozzese Alexander Selkirk, naufragato e vissuto per 4 anni su un'isola disabitata dell'arcipelago cileno Juan Fernandez. L'incredibile storia vissuta da Selkirk ha ispirato allo scrittore Daniel Defoe il personaggio di Robinson Crusoe. Nel febbraio 2005 sono stati ritrovati i resti dell'accampamento di Selkirk nell'isola Aguas Buenas, ribattezzata dal governo cileno nel 1966 Robinson Crusoe.